Salve a tutti. Cari spettatori del Grande Fratello. Oggi vi portiamo le ultime notizie direttamente dalla casa più famosa d'Italia. È stata una giornata ricca di sorprese e aerei messaggeri. Scopriamo insieme cosa è successo. Nella casa del Grande Fratello. Questo pomeriggio è volato un aereo per Beatrice Luzzi. Seguito da un altro per Heidi Baci e Vittorio Menozzi. Il messaggio dei sostenitori della coppia. Con l'hashtag cancelletto baciozzi. Recitava. V e H. We love you. No lontani. Ma come hanno reagito i diretti interessati. Il fatto è che Vittorio ha ammesso di essere più interessato ad Anita Olivieri. E Heidi si è riavvicinata a Massimiliano Varrese. Massimiliano ha ribadito di non essere interessato alla bionda 26enne e ha dichiarato che il messaggio ricevuto non cambierà i suoi sentimenti. Ha anche condiviso le sue opinioni sul comportamento di Heidi in casa. Ecco quindi la reazione di Massimiliano. Che ha ammesso di non aver preso bene la situazione. Vi aspettiamo con nuove aggiornamenti dal Grande Fratello. Se vi è piaciuto questo video. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e per rimanere sempre informati sulle ultime novità dalla casa. A presto!